La politica regionale dei trasporti dovrebbe tener conto anche dei vantaggi indiretti nell'investire nel trasporto pubblico. Secondo l'associazione In Locomotivi, costituita da cittadini campani pendolari o che utilizzano spesso i mezzi pubblici su rotaie, si tratta di vantaggi che hanno comunque una grande valenza economica. Meno traffico, meno inquinamento, meno stress, minori tempi di percorrenza, maggiore sicurezza, minori incidenti stradali. Per l'associazione La Chiusura della Metropolitana di Salerno causa disagi a più di 7.000 persone, non solo di Salerno, ma anche provenienti dalle province limitrofe. Ai tanti interrogativi inviati alla regione su come si debbano muovere questi utenti all'indomani della chiusura, nessuna risposta, sottolineano gli esponenti di In Locomotivi. Eppure, negli ultimi anni, scrive l'associazione, Salerno è diventata un importante snodo per quanto riguarda il trasporto, del quale usufruiscono lavoratori, studenti e turisti. Non a caso il capoluogo rientra nell'alta velocità di ferrovie dello Stato ed è meta del turismo croceristico. Insomma, secondo l'associazione di pendolari, il modo più valido di valorizzare questo nodo sarebbe proprio quello di investire sul trasporto ferroviario metropolitano, anche per ridurre le distanze tra i capoluoghi campani, tra centro e periferia di Salerno, tra città e provincia. Tutto questo concludono con una nota amare ai pendolari, si è concretizzato solo per la città di Napoli.